Dopo verifiche e accertamenti sulla reale identità delle persone coinvolte nell'indagine della Guardia di Finanza del gruppo di Busto Arsizio, che ha fatto scattare le manette ai polsi di 15 persone con l'accusa di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al furto aggravato e che ha portato al sequestro di 725 mila euro, il giallo è stato risolto. Tra gli arrestati non c'è il killer del vigile di Milano, come era stato invece dichiarato al termine delle operazioni. Dopo che l'avvocato di Remi Nikolic, David Russo, aveva smentito che il suo assistito, condannato per aver ucciso nel 2012 un agente della polizia locale di Milano, fosse tra le persone fermate oggi nel corso dell'operazione della finanza, è intervenuto a fare chiarezza il procuratore capo di Busto Arsizio, Gianluigi Fontana, che ha detto che l'arrestato, ritenuto uno degli autori dei reati contestati nell'indagine della Guardia di Finanza, è certamente Goico Jovanovic, che non è il responsabile della morte dell'agente della polizia locale di Milano. L'equivoco è nato perché suo fratello Remi Nikolic aveva fornito le generalità di Goico Jovanovic quando fu fermato nel 2012 per l'omicidio dell'agente della polizia locale e l'informazione non è stata mai aggiornata nel sistema informatico di indagine delle forze dell'ordine. L'equivoco inoltre si è basato anche sul fatto che a metà luglio il Tribunale per i minorenni di Milano aveva concesso a Nikolic il regime di semilibertà con affidamento ai servizi sociali, dopo aver trascorso cinque anni in carcere, con una decisione che aveva suscitato polemiche e critiche da molti fronti. Sarebbero però finiti in carcere il padre e i due fratelli del giovane, ma non lui. L'indagine in questione, denominata la stangata, ha portato all'arresto di 15 soggetti perché considerati parte di un'associazione a delinquere transnazionale dedita al furto di denaro. Il gruppo è accusato di aver derubato clienti stranieri di ingenti somme di denaro custodite all'estero, a Cuba, a Dubai, in Russia e a Hong Kong, dopo avergli proposto di farle transitare in Italia attraverso un cambio di valuta a cui corrispondeva denaro falso oppure in altri paesi senza passare da canali ufficiali. L'indagine sarebbe partita da un controllo operato da un finanziere fuori servizio, che dopo aver osservato uno degli indagati pagare un caffè in un bar con una banconota da 500 euro e poi allontanarsi su un'auto di lusso, ne aveva annotato la targa facendo scattare le prime verifiche. Per attirare i clienti da derubare, gli indagati viaggiavano all'estero, li incontravano in hotel di lusso e si travestivano anche da sceicchi.